Si è aperta con la dichiarazione di abbandono dell'aula del consigliere di opposizione Lorenzo Combi sulla seduta del civico consesso a Caologna e in atto un'attentata alla libertà politica di un consigliere comunale l'arbitraria revoca della delibera cui la precedente amministrazione comunale concedeva in locazioni locali di Orsini già cadenti e degradati all'associazione Caologna 2.0 di cui la nostra consigliera Antonella Ierasce, presidentessa ha sostenuto, costituisce un grave abuso di potere e una minaccia ai diritti politici di un libero cittadino La minoranza continuerà a disertare l'aula fin tanto che non avremo udienza dal signor prefetto cui è demandato il controllo sugli organi per esporre la grave ed illegale situazione venuta a creare a Caologna Hanno così abbandonato l'aula i quattro consiglieri di opposizione e numerosi cittadini presenti per la quasi totalità operatori di Caologna 2.0 che avevano esibito un cartellone di protesta e alcuni fantocci raffiguranti verosimilmente i componenti, l'esecutivo, fatti rimuovere dai carabinieri L'assessore al bilancio Tiglio Tucci ha erriso la minoranza affermando che il problema serio è quello dell'itero amministrativo e degli stessi occupati nella cooperativa Non importi a nessuno se non a fini speculativi Non è più tempo di scappare per nessuna, Caologna ha ribadito La politica, in generale, nel momento in cui USA per le proprie battaglie la denuncia alla prefettura ammette di aver fallito Intanto, lo stesso Tucci ha sottolineato pure come la personalizzazione della politica porti lontano dai problemi reali del Paese e comporti il serio rischio di diventare pericolosa sfociando in aggressioni personali come è avvenuto alcuni giorni fa al primo cittadino di Marina di Gioiosa Precedendo, poi su quanto previsto in agenda l'assessore ha fatto il quadro della situazione finanziaria dell'ente gravemente indebitato per l'erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica il conferimento dei rifiuti e gli oneri da corrispondere per incarichi legali È stata richiesta, ha concluso lo stesso Tucci una rataizzazione da spalmare su 4-5 anni Stiamo avviando un processo di risanamento che prevede una rataizzazione a lungo termine dei tributi ha dichiarato il sindaco Chieti Belcastro Tutto ciò ha comportato un lavoro intenso dell'amministrazione e degli uffici dell'intera macchina comunale